Tutte le città di mare hanno come caratteristica quello di vedere arrivare e veder partire delle persone. Il mare è anche un mezzo di comunicazione, attraverso il mare viaggiano le persone, viaggiano le merci e i porti diventano un punto di contatto. Non c'è giorno in cui non mi capiti di voltarmi e vedere un angolo particolare che non avevo visto o che mi era sfuggito. Stupirmi di quanto bello è un contatto con il mare sempre presente. Sì, essere una città che riceve i turisti è una grande opportunità e anche un po' di stress. Il problema principale che vediamo è il logistico e il traffico. Quando tanti di passaggi sono arrivati da l'anno, ci sono molti bambini, molti tassi. Questo implica alcune strategie per balanzare questi problemi con le opportunità che potrebbero essere creati con questa industria. La questione medioambientale è essenziale. Abbiamo che apposta per una linea di sviluppo che sia sostenibile. Il projecto di sviluppo è un progetto di sostenibilità. Il primo passo per risultare con il problema è di sviluppare il LCTP. Il progetto cerca di promuovere il processo di partecipatorio in ogni città. Ma potremmo trovare una soluzione che non ci hanno pensato a farlo. E non ci hanno pensato a farlo. E non ci hanno pensato a farlo. Il possibilità di utilizzare, in modo modulare, la metodologia che è testata in queste città. È un'opportunità di capitalizzare l'esperienza che è sviluppata in questo progetto. Io credo che le nuove generazioni abbiano già una convinzione molto più grande di quella che abbiamo noi di questa generazione. Secondo me siamo più noi da educare delle giovani generazioni. Basta lasciargli una piccola eredità in termini metodologici, ma hanno già dentro di loro quello che serve per avere un buon traguardo, per avere dei buoni obiettivi. Io vorrei mantenere le giovani con l'identità, con il balancio tra il turismo e la vita comunale. È importante mantenere questo. Dessere la seconda eredità holda